Comunque siamo in un nuovo video, oggi siamo su roblox gacha life online e praticamente gacha life su roblox io questo gioco già lo conoscevo io l'ho rivisto qui a me sul telefono non andava ma io ho provato sul tablet e va, spero che a voi si vede bene, a me si vede bene, spero anche per voi e io personalizzo il mio personaggio maglietta a qui ok manca no io voglio una maglietta ecco qua io voglio una felpa non c'è una felpa giacca potrei provare no ma che schifo di giacchi sono camicia no sembra da donna perché da donna ma se quella è da donna le scarpine vanno bene questi colore 1 facciamo blu blu per bellissime sono bellissime queste scarpe colore secondario celeste sotto ma sono una mia bellissima questa cosa io spero che venga bene no 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 celeste vabbè come si fanno a togliere queste cose boh non lo so non chiedetemi boh non lo so non chiedetemi che scarpe che figlia sta scarpe no ma è da donna cos'è questa molto bella bellissima cosa sto vedendo non ci sono le jordan non esistono facciamo che so queste le jordan dai raga tra questi questi forse somigliano più con le jordan cos'è il puntello cacchio è puoi mettere una spada no 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 come si fa a togliere no vabbè posso fare pure così no no gira me lo sono appena non ci vedo un cacchio nel video cosa ho fatto si era buggato tutto come faccio a togliere e raga non lo so forse devo ricliccare no anche uno me lo toglie perfetto ora facciamo giacca ma dove sono quelle che voglio io come vedo la pelle rosa non va bene mantello mantello no guanto destro non mi interessa forse qui devo andare qui forse e no ragazzi io non vedo io non vedo qua è qui lo so tutti da donna scusatemi voglio una bella che non sia da donna colore uno blu perfetto tutto perfetto colore due non c'è nessuno colore ok perfetto adesso stanno gli abiti più sistemati così posso vedere un po' i colori io vorrei ragazzi trovare una felpa questo video dovrò solamente per personal dovrò tanto solo per personalizzarmi questa 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 è perfetta adesso poi devo vedere i capelli allora fammi mettere i guanti che così non mi piace ah manica perfetto lunghe perché sa ieri facevo a presto non 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 sto sto facendo un personaggio bello donna mia cosa sto facendo pantaloni colore uno io faccio tutto il personaggio blu perché non lo so colore bello militare c'era militare questo è strappato non ci sta molto con il tono della felpa normali posso fare così questi facciamo questi raga è molto semplice poi la faccia la faccia che faccia ti metto qua gli occhiali io porto gli occhiali ragazzi non so se lo sapia voglio io ho due tipi di occhiali no perché uno quando sto dentro casa e gli altri quando esco tipo ho degli occhiali blu e poi degli occhiali dorati io vorrei cosa è ma io voglio fare gli occhiali quelli trasparenti questi che li posso fare gialli ma queste cosa sono le lenti ma le lenti sono bianche oh gioco ok colore 2 il contorno ah no no che devo fare per il colorino giallo perché mi deve prendere tutto no 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 oh così facciamo così sembra che sono un po' psicopatico perfetto andiamo bene ragazzi non si nota tanto occhi io gli occhi ce li ho blu colori 1 blu no celesti tipo su un celeste questi questi qui possono normali li voglio ok perfetto è il mio stesso sguardo praticamente questo cosa è il colore 2 ah no no io ce li ho bianco ma scusami cioè che cos'è il riflesso il riflesso ti faccio tutto l'occhio celeste bimbo brutto che mi sta venendo male no brutto non è cioè ragazzi è molto carino però se si tolgono cioè io mi sta ripestendo poi i capelli i capelli 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 posto in passaggio ah no ok 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 colore io ho i capelli gialli si ragazzi ho tutto giallo colore 2 giallo no ma perchè è verde oh i capelli verdi che schifo questo che schifo ecco colore se faccio colore 1 colore ok aspetta prima ok facciamo che so così capelli anteriori quelli davanti so questi e se no non so giusti raga questi no questi o questi o raga questo facciamo questo il terzo numero 10 facciamo il colorino tutto giallo tutto giallo giallo non verde brutti scemi di guerra più chiaro più chiaro ecco perfetto non tocca più niente colore 2 sempre giallo sempre giallo non ce li ho ciclamini i capelli non ce li ho metà marroni metà gialli che schifo e poi mi mi aspetta però le fate da azzeccare i colori giusti giusti vengono poi la musichetta po' che è molto molto carina i capelli anteriori quelli capelli posteriori colorino giallo più chiaro 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 perfetto 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 così può andare bene raga momento tutto silenzio questo gioco raga ma c'è venuto bene il mio pacionaggio adesso non so il cappello ma il cappello che cappello mi devo mettere io non porto cappelli io ho i capelli bellissimi però adesso accessorio viso ahhh no che schifo e da e livi cos'è? un sopracciglio sopracciglia cosi nini 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 molto carina la musichetta e musing copia non incoppio il personaggio e incoppio copia ora vedo piano le ali voglio mettere voglio mettere le ali no 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 pre niente no 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 queste queste sono molto carine facciamo il colore principale sempre blu io non mi vesto comunque sempre blu hanno quello là celeste anzi no fa meglio blu il contorno e lì dentro celeste e raga che ne dite? a me piace possiamo fare la descrizione ho saltato descrizione aspetta che cosa ho fatto? no no mi ha fatto cambiare il colore no no c'è lei ma non vado a fare un po' carattere devo scrivere le mie personalità io guarda questo qui il mio personaggio molto bello questo è Ash ma cos'è Ash di Brawl Stars Brawl Stars è pure qua cosa è successo? ma comunque Brawl Stars ve lo porterò quando ci sarà la nuova stagione c'è tra due giorni vabbè buongiorno buongiorno la sua però mi mette il nome nome Roleplay nome utente vabbè 0 Samuel perchè sta a casa non c'è da U nome Roleplay Samuel 011 ti prego mettimelo please scusa scusa allora che ho censurato alcune parole ecco ma perchè Samuel 011 me lo censurano cosa c'è di male? proviamo un Samuile trattino basso 011 così ma vaffa ma vaffa cagare ma cos'è? andate tutti via ma chi chi vi cacca e questo qua ospedale cos'è? non è vero? qui ci potessi visitare un po' tutto nome Roleplay Samuile tibetto Samuile oh perchè la U non si vede? scusami quello ha scritto rip giusto giusto ciao sarà alfa alfa gaccialla cos'è? ah gaccia life alfa età 10 anni mettiamo 18 anni mettiamo 80 anni 80 non ho chiesa troppo vecchio mettiamo 12 ecco poi genere mettiamo femmino perchè alcune volte mi dicono le persone che semiglia una femmina quindi femmino no ma l'ha censurato allora metto dai metto maschia maschio o maschio maschia ma anche metto maschio perfetto sensazione mi piace . la 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 ... la ciambella i pancakes i pancakes i pancakes l'altro altro hetto avevo mangiato i pancakes buoni pancake pancake poi non so come si scrivono raga un attimo di i pancake poi le crepe le crepe sono buone sono buone buone le crepe crepe lo so scrivere perché lo conosco è così crepes così si scrive giusto guarda te lo so scrivere pure decentemente i pancake e le crepe poi non mi piace le ciabattate perché mia manica le ciabattate perfetto ecco così so io le ciabattate di mia madre le ciabatte le ciabatte di mia madre così le ciabatte le ciabatte di mia madre raga raga non le ho fatto scrivere cioè me ne vado poi descrizione mi piace la nutella è una descrizione cioè molto 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 descritta cioè mi sono descritto molto di me qui se vado a fare testi in ortografia se vado a fare testi non so cosa scrive descrizione insomma mi piace la nutella appunto sensazione in che senso ciò 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 distintivi che cacchio sono cosa sono i distintivi qua vabbè non mi ne frega ecco ragazzi andiamo un po' a visitare non lo so questo qua cos'è la scuola andiamo a scuola è vero posso fare questo wow è triste guarda che figo così scuola a plaza ah biazza di scuola ufficio del presida andiamo a sfasciare tutto è la cosa che ho volto sempre fare dov'è il preside non c'è se se ti cacco aspetta dov'è che mi posso sedire mi voglio sedire per fare una cosa brutta al preside non posso non no non mi metto questo qua ok me lo togli è perfetto togmi oh così è meglio c'è queste cose che devo preside ciao aspetta metto sotto ecco non mi vedrà nessuno preside andate vai a fuoco non lasciaci stare wow ti salto sopra il coso ciao ciao preside yeah ho rovinato tutto il preside voglio fare altre cose la piscina voglio affogare ma godo se affogo wow guardatemi ciao 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 ma perché sto sempre piangendo questa mi piace sta faccia andiamo no 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 poi domani quanto è durato sto video durato di 6 9 minuti ragazzi io che affogo sotto la piscina spero tanto che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete tantissimi like e la samuile gaccia life tutti ci vediamo in un prossimo video ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao